Crap, si bene. Difficile, non so i tasti minimamente. Vabbè, te li dico io, più o meno sono sempre gli stessi. L'istinto ha accentata e poi se vuoi uscire che si mette in piedi e cominciano a mirare tutti. Per invece mettersi accucciato. Invio, tutte le azioni da mettersi ai muri con invio. Come Rainbow. Esatto. Sono ancora più vicino. Bello. Parti in accappatoio a Chinatown. Ma si, guarda che fico. Che fisico, eh. Non posso cambiare i numeri proprio? Clicca, no, con la rotella tipo la selezione e poi premi lo sparo e la selezione. Sì, ma vedi ora... Cosa? Vedi, io non passo da 5. Beh, però così. Vabbè, tanto non è che devi fare tanti cambi. No, comunque dovrebbe cambiarti la normandina. Se voglio nascondere l'arma. Premi la rotella. Ok, no. Allora M. Ok. M. Bene, il mio obiettivo è... Come faccio camminare più lento? Così è già lentissimo, madonna. Cosa? Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! A polizia? Già vuoi eliminare quello, quindi? Cioè... Cosa segna? No, puoi anche non farlo. Puoi metterti lì te gli obiettivi che vuoi nei contratti. non è come nella storia puoi eliminare il cuoco che vuoi eliminare? il poliziotto è lì dalla Bentley quel cocomero se posso lo faccio c'è una bottiglia attenzione si controllano vicendo una va via magari per poco tempo si ma ora se vuoi si spaccaglia in faccia avvicinati e no così l'hai nascosta si si infatti merda scappa 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 in mezzo alla folla scappa scappa e non corre il coglione a massimo fa così è vero in mezzo alla folla ti non ti puoi avvicinare troppo mi sa tanto mi sono vestito così si mi sospettiscono un po' sono un matto che sviluppa la città pelato con un camicia a barra e una cappatoia e dal cazzo mi pio bottigliate minchia ma sfaccare una bottiglia questa e scappare nella folla hai prova a gank tang fatto fatto si misca si no merda via via no di qua guarda che sei ostile tutti si stanno guardando apri il fuoco in mezzo alla folla è un matto via 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 scappa scappa con lo sprint scappa in giù dalle scale giù che minchia che tozzo minchia via dentro strascemo però giro a caso bottigliate spara fuoco a caso un mega pazzo ma poi non credevo che mi sgamassero così eh no è davanti a tutti ma ti sta venendo proprio a prendere tra l'altro il tuo obiettivo senza volerlo fai sbircia fai sbircia minchia ti stanno proprio cercando eh stavolta ti vanno proprio a seccare dentro sai cosa dovresti riuscire a prendere un altro vestito per salvarti in corner ma ormai è compromessissimo dovresti più o meno farli fuori tutti per uscirne fatti il cuoco però mi sa che donna non puoi prenderti il travestimento cazzo l'hai ferita finiscila che cazzo vuoi eh e sci madonna no merda merda e poi torna nessuno nessuno ha visto niente no ora ci sono i vestiti di quello però attenzione il poliziotto se te riesce a prendere una buona cosa è fatta è ancora più malato si chiama esci e fallo appena si gira proprio controllo vai 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 oh cazzo madonna ok ma mi sa che te l'hanno visto mentre ti cambiavi i vestiti eh dici vattene comunque vattene 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 stai lontano dai poliziotti minchia vabbè la situazione si sta normalizzando anche se non si vede che in realtà è sempre la stessa che gira il matto di brutto è zero usa il filo infatti non te lo vedo ma il filo anche se è esposto è l'unico sì ma come vedo anche l'ammazzo ti vedono tutti ovvio appunto premi M che ce l'hai esposto se no ti fa un attacco corpo a corpo ok sono tutti aspetta uno forse se allora usa l'istinto mentre gli vai incontro a quello usa l'istinto che ti copri e gli vai dietro bravo G sorpassaglielo va no no non così ormai fallo tambure misto cazzo mettiti dietro non hai più colpi scappa scappa su di lì vai cosa c'è qua vai esplosivi pure no no aspetta no hai lasciato l'esplosivo su merda merda mettiti dietro le casse prendi l'esplosivo col trattino mira giù buttaglielo giù allora va appena li vedi lo puoi lanciare col destro guarda premi il destro hai capito e poi col sinistro rilanci poi lo fai esplodere te col telecomando non farlo ora io lo farei proprio in mezzo alla folla da criminale ma terrorissimo si ma l'hai perso arrenditi come non puoi attaccalo si fa fa